Musica Bentornati all'appuntamento con le previsioni di Meteo One. L'alta pressione da ovest sta conquistando passo dopo passo l'intera penisola. Riportando temperature primaverili e cieli sereni. Gli ultimi refoli freddi saranno interessando solamente il sud Italia, ma nei prossimi giorni saranno un lontano ricordo. Lo scudo altopressorio riuscirà fino al prossimo weekend a mantenere lontane le perturbazioni nordatlantiche, regalandoci così scampoli di primavera. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 16 marzo. Cieli per lo più soleggiati su entrambe le regioni, grazie alla rimonta anticiclonica da ovest. Qualche nube potrà fare la sua comparsa solamente sui rilievi lucani nel pomeriggio. Cieli sereni altrove. Come possiamo vedere dalla grafica, le temperature risulteranno in rialzo di 2 gradi, sia nelle massime che nei valori minimi. Venti moderati dai quadranti nord-orientali con rinforzi sulle coste, in attenuazione dalla sera. Per quanto riguarda i mari, poco mosso l'Adriatico, mosso il canale d'Otra e lo Ionio. Ed ora passiamo al nostro consueto appuntamento con la foto del giorno. Ringraziamo il nostro telespettatore Paolo Simone, che ha immortalato la luna piena nelle bellissime campagne di Campi Salentina, nell'Eccese. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di Meteo One e Teleappula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie per la visione!